Buongiorno cari amici di Mirarevo, oggi daremo un'occhiata al contenuto della confezione di vendita di Motorola Moto 360 La confezione di Moto 360 è veramente molto semplice ma con un contenuto davvero interessante innanzitutto è una scatola di cartone rotonda che va a richiamare quindi la forma del dispositivo una volta aperta la scatola troveremo subito in primo piano il nostro bellissimo smartwatch che è diciamo agganciato a un cuscinetto di gomma a piuma per evitarne danni durante il trasporto una volta tolto il nostro orologio al cuscinetto di gomma a piuma e sollevato il supporto in cartone che lo conteneva possiamo subito trovare la base di ricarica wireless infatti questo Motorola Moto 360 ha la ricarica wireless con ingresso micro usb e appunto il cavo di alimentazione micro usb il cavo di alimentazione micro usb è in versione americana in quanto noi abbiamo acquistato Moto 360 negli Stati Uniti ma siccome la basetta ha comunque un ingresso micro usb potremmo utilizzare un qualsiasi cavo a nostro piacimento basetta di ricarica wireless che dà veramente un tocco ancora più premium a questo dispositivo infatti non abbiamo nessun connettore fisico sul dispositivo nessuna presa micro usb nessun connettore stile LGG watch ma appunto si ricaricherà solo tramite questa basetta in maniera completamente wireless in più questa basetta funziona anche come diciamo dock da scrivania quindi se noi la lasciamo sulla scrivania quando ci sediamo appoggiamo lì l'orologio l'orologio mostrerà una bellissima watch face indicante l'ora e la percentuale di ricarica che abbiamo quindi se avete qualche domanda e curiosità su questo smartwatch scrivetele pure qua sotto oppure chiedetele sui social la recensione arriverà veramente a breve quindi iscrivetevi al canale e continuate a seguirci